il kit che monta è tutto il kit del settantesimo anniversario e il fianchetto allargato dal nostro amico chicca importante questo spoiler molto molto sobrio è un deltaplano e abbiamo ancora un un estrattore dell'aria sforza si è sentito l'autobloccante e anche l'impianto frenante brembo si sente mettete mi piace ovviamente condividetelo e soprattutto iscrivetevi fatemi sapere soprattutto nei commenti cosa pensate di questa macchinina ci vediamo il prossimo lunedì grazie